Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di minecraftita Allora, come promesso il trasporto per l'altro villager lo farò naturalmente off camera Però era giusto per far vedere che stavo per cadere Era giusto per far vedere che stavo per cadere No, che avevo lasciato qui il ponte aperto mi avete fatto notare che sarebbero potuti uscire tutti i villager Non era un problema perché comunque potevo far pare il resto però sarebbero potuti uscire Ok, prima di iniziare con il trasporto che farò off camera come vi ho già detto Voglio dire una cosa che mi avete spammato in millemila per quanto riguarda le patch A quanto pare dalla prossima patch Questi signorini qua, i golem Non daranno più ferro quando vengono uccisi in generale Dovrà essere il player ad ucciderli per ottenere il ferro I drop saranno sempre gli stessi e da 1 a 4 Però dovrò essere io, Uzzurri al power Ad uzzidere Sti cani Sei un cane sei, sei un cane Lo stesso per i pigman Quindi addio alle pigman farm Alle gold farm Quelle là Full automatiche E niente Comunque farò la mia farm Perché basterà aggiungere tipo un suffocator Con dei pistoni Calcolare i tick necessari per ucciderlo E semplicemente ucciderlo poi al mano L'unica cosa è che per chi non se lo ricordasse Una volta usciti i golem La prima cosa è stato il lag C'era un lag assurdo con i golem Mi ricordo che tipo appena usciti c'era un lag Perché tipo se non riuscivano a raggiungere Dico un villager in pericolo o merdate varie Iniziava a laggare Perché succhiava troppa memoria a minecraft Invece in questo caso il lag sarebbe Per via della quantità di golem Perché più golem ci sono Più casino c'è nel codice di minecraft E quindi laggherebbe Quindi Bisogna vedere eh Magari non lo implementeranno Non dico che sia una cosa positiva Nemmeno che sia una cosa negativa Solamente una cosa che mi rompe le palle Ho come in minecraft Quindi ora trasferirò Il secondo villager Perché l'altro era un pezzo di merda Oddio 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 mi sta attaccando Non ho frecce Quanto cazzo di male fa Solo perché ho attaccato un villager Pezzo di merda Speriamo che non ce l'abbia più con me Fa tranquillo che ora ti massacro Quando i cani mordono cos'è che dicono Vanno abbattuti no? In realtà sono contro l'abbattimento di cani in generale A meno che uno sia mandato grave robe varie Però anche se mordono tipo bisogna solo allontanarli da chi hanno morso più o meno Comunque Comunque non era questo quello di cui dobbiamo parlare Dobbiamo parlare del fatto che tu morirei malamente quest'oggi Ho delle frecce? Sì Ti sei messo contro il studio E' il power sbagliato Mi dispiace Ok non ce l'abbia più con me Eh sì che ce l'abbia con me Pezzo di merda Pezzo di merda Capone Pezzo di merda Cinque pezzi No Cinque pezzi di ferro è impossibile Mi hanno dati tipo tre o quattro Quattro è il massimo Quindi Caffone Caffone Non ci sono più i golem di una volta Quelli che ti rispetta Ah punch and breaking No no facciamo così Questa è più forte Dicevo non ci sono più Dove cazzo sono tutte le mie rail Non ne avevo così poche io Vabbè Non ci sono più i golem di una volta Ok Faccio solo il passaggio finale Perché E' una tratta diretta Fino alla fine Vai Vai Aspetta Spengo sto cazzo di TS Ok Vai 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 Oh no merda Merda No no Non andare Non andare Non andare Non andare Manca una parte Te lo dico Oh merda Cagna Stavo per colpirti Lo sai Vabbè Te stai fermo Fino a che riesci a stare Devo Fare l'ultima parte qua Che l'ho tolta Vi ricordate Come si faceva Arrivavo qui Ma porca vacca Qua Questo lo spostiamo di qua Dovrebbe essere a posto Vediamo i blocchi superflui Non ci dovrebbero essere blocchi superflui 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 Vai Che questo è uno Blacksmith Sette smaladi per una palla di diamanti E' sempre un po' caruccio Vai sali Ah e c'è questo sonobank che non mi dà i suoni dell'erotaglio Boh Non so Capitato tipo già Tra quattro volte Allora Vai 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 No Ti facevo tanto male Sappivo Se morivi Oh guarda che carini Che fappano di gioco Che carini Che carini Che carini Starete qui all'infinito Pezzi di merda Uno Mannaggia ho avuto un colpo E due Quasi quasi Ok No che costano Sai com'è Costano un bel posto In minecart Ehm Qui sopra ci mettiamo del glass Giusto per evitare che qualcuno C'enti dentro Le riloghiamo velocemente Ok eccoci qui Abbiamo i nostri due villagers Che saranno a posto forever Nel mondo Uno Uno Per una questione Di non so cosa Voglio mettere del vetro Anche qui ai lati Tipo uno lì E uno anche lì qui Per simmetria Ok Questa robaccia La possiamo levare Allora Per evitare Della durabilità Rompiamo direttamente i blocchi Così non dobbiamo rompere le rotaglie Perché cadono giù Quindi E ci fermiamo Il piccone Ok Ora naturalmente Bisognerà aspettare E quello che farò probabilmente Stare è stare Stare talmente tanto di quel tempo A FK Che le risorse di ferro Che mi ritroverò Saranno talmente Talmente sgrave Ma sgrave Tipo da dire Surreal Sei un cheat Nessuno Nessuno ha mai usato Una farm di ferro Così tanto 1-1 Perché Dopo diventerà più complicato Con la farm Sì Con la patch 1.8 Ma tanto più complicato Il problema è che i golem Non danno manco esperienza Sennò sarebbe stato Tipo anche Favorevole No Tipo Li ammazzo tutti Però mi danno esperienza Quindi Capirai Invece no Invece no C'era Seccatura 1-1 Mi piacerebbe Mettere un po' di torce Lungo il percorso Qui però Perché come Avete Tutti di voi Avranno notato Non ci sono torce E Giusto per sicurezza Devo tenerlo per un po' Questa Questa struttura È molto antiestetica Parliamo Non rimarrà mai Per tanto tempo Nel mondo A meno che Per un affettore Di voglia Di levarlo Ma non ci vuole neanche Tanto perché È un piccola bestia E Soprattutto è per evitare Che possino Spossino Che possano spawnare Zombie Che poi vanno nel mio villaggio Cioè questo E distruggono tutto E giusto per essere sicuri Faremo una cosa di questo tipo Easy peasy Lemon squeezy Anche questo Così in caso Abbiamo comunque Il fattore velocità Se dobbiamo andare a prendere qualcosa E siamo comunque a posto Ok molto bene Quindi per quanto riguarda La farm di ferro È completata Perché non c'è molto altro da fare Se non per appunto Quella finezza Appunto Dal punto di vista estetico Del blocco disellato Che potremmo fare Solo dall'1.8 E l'unico problema Diciamo importante È che dalla punto 1.8 Quella farm di ferro Sarà pressoché inutile Proprio quella farm di ferro Dovrà essere modificata Ora invece andiamo a vedere Un attimo nel nether Perché l'altra volta Esprimevo il mio dubbio A favore di sto tizio Oltre al lag Che non so perché No no È ancora qui È ancora qui il tizio Delle cose Io devo ancora finire Sta roba però Dovrei mettermi ci Eh Perché Questo tunnel Di sicuro Ah ecco dove cazzano Tutte le mie otaglie Pezzi di merda Qua è difficile Dove usare il piccone Perché Spacco tutto Con Oddio ma Ma è quasi finito il piccone E Vuoi addirmelo prima? Pezzi di merda Davvero No no Me ne ricorderò Che figata Sta stanza Mi piace un botto Devo c'erare più quarzo Ma che se Tipo per prendere sto quarzo Ci avrò messo tipo un'ora Però vabbè Vai 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 Tu corri corri Piccolo Fa per indemoniato Ah sì Il quarzo È di sicuro Perché Allora La parità di Di difficoltà Cioè Che cazzo dico La parità di quantità Il quarzo È sempre stato più difficile Appena uscita È stata rognosa Anche la clay È stata rognosa Quando l'ho messo L'ordine al clay Era piuttosto rognosa Però da quando l'ho messo Il mesa biome Quello là Con il mille Mila Con le montagne di clay Ormai è una cazzata Prendere la clay Basta andare lì E scavare Come se fosse cobblestone E in più È già cotta Quindi devi solo Colorarla E Il quarzo È un bordello Non solo Devi per forza Usare La fortuna Come si chiama L'enchantment Fortuna Su Su un piccone Perché altrimenti Non ne vale davvero la pena Ma nonostante Usi la fortuna Ti esce Comunque un cazzo Non ti esce Voglio verificare un attimo Qua Voglio tenere gli aggiornati Siamo a 3 stack E 9 Quindi Diciamo che la farm funziona Andando avanti e indietro Piano piano Questa cosa Non penso funzioni Ma ne avevamo già parlato E intanto Piano piano Senza Troppo impegno Siamo già A trender pearl Quindi Siamo più o meno A Meno Meno 8 Più abbiamo Il tizio Nel land Nel nether E E Poi ultimo Stanno aumentando I I drop Di I drop Lo spawn Di Ender Di enderman Non so perché Ma l'avete notato anche L'ha notato anche Chi mi segue in live Negli ultimi live In cui vado in caverna Trovo più enderman Rispetto all'inizio della serie Non so perché Non so Magari Tipo c'è Una zona segreta In cui Quando entri Sblocchi 30 milioni Di End Sono tutte cazzate Quello che sto sperando Trovato Ehm Trovato così Però 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 Allora Stavo visitando la mia stazione Dato che Vorrei utilizzarla un po' di più Ad esempio per collegarmi Tramite sempre dei passaggi Alle altre isole In cui vorrei Portare avanti altri progetti Insomma vorrei espandermi Abbiamo un'isola di là Abbiamo un'isola di là Anche se di qua un po' più lontana Quindi magari Bisogna ideare qualcosa Tipo con l'acqua So che c'è un metro Per andare più veloci con l'acqua E potremmo studiarlo Tipo in uno dei prossimi episodi Comunque stavo pensando Qua ci vuole un po' di Non lo so What the fuck Posso mettere mille mila cose Sullo stesso Cos'è un bug? Spero Spero sia un bug No Ecco Direi che Insomma Una Metropolitana Che si rispetti Deve avere dei poster Delle pubblicità Di qualche tipo Ok No C'è lo stesso poster di là Ho capito che magari c'è una compagnia Che ha più soldi tra pubblicità Però almeno E dai eh Ecco qui Guarda qui che bella La mia metropolitana Con tutti i banner pubblicitari Mamma mia che bella Qua c'è un po' di cobblestone Non approfitto Me la porto via L'approfitto Me la porto via No Va bene Anche la cesta Perché costa Il legno costa Ok Il legno costa No no Mi prendo la cobblestone Giusto perché Ne ho usata Un po' Per fare là E quindi Riempio le cose Caminando qui nell'angolo Vedo le Il brewing stand Allora mi chiedo Che non sia Allora Di iniziare a cazzeggiare Un po' con le pozioni E' una domanda E' una domanda Il Il design che ho Che ho aumentato io Una delle poche cose In minecraft Da cui non ho preso Di cui non ho preso spunto Da nessuno Il mio meccanismo Per fare le pozioni Della scorsa stagione Effettivamente E' un po' Diciamo Ingombrante E' efficace Perché è efficace Però è ingombrante Quindi La mia Autosfida Insomma Per questa Stagione E' creare Una Una macchina Per le pozioni Che sia più efficace Sono solo in tre Oddio mi è prevenuta Un'idea malata Non per le pozioni Per i villager E per un oggetto In manca Avete presente che ci sono Delle Delle plate Delle cose Che servono per Come si dice Insomma Delle pressure plate Che si attivano Con un tot Di oggetti sopra Se potesse fare una cosa Per la massa corporea Deve essere Ogni mob Che sia uno zombie Un ragno Quotiasi cosa Ha un certo peso E quindi Un tot Di mob Attivano Una pressure plate Quando sono In un tot Ah io penso Non sia una bella idea Io penso No io penso Sia una bella idea Oddio C'è un blocco sbagliato Però è figo Allora lo metto Anche di qua Ok Ecco i piani Allora Lo so che oggi Non ho fatto Molto Molto progresso Però capita Capita ogni tanto Quindi Niente Deal with it Comunque Il mio progetto Cioè il progetto I miei programmi Per Questa notte Sì questa notte Non mi riguardano Io sarò Da qualche parte Di qua Di là Giù Giù Però la cosa interessante È che Starò a FK Tutta la notte Qui Mi creerò Ora Un piccolo spazio In cui stare Letteralmente A FK Cioè A FK Io starò qui Primerò E Se dovrò renderizzare Questo episodio E caricarlo Però Lascialo il computer Acceso E resterò A FK Dovrei tornare Con Almeno Un mezzo stacco Uno stack Di ferro Spero Perché Abbiamo Più o meno Bisogno Di Un'ora Per i villagers E Più o meno Saranno Uno stack Allora Insomma Spero di tornare Con un bordello Di roba Qua dentro Quindi Quindi Non so che screenshot Fare Vabbè Lasciremo decidere YouTube Che screenshot Ci sarà A questo episodio Vabbè No Uno screenshot Sarebbe da fare Alla metropolitana Comunque Sì Così Almeno Mi porto Mi porto Davvero Avanti E E Saremo A posto Con quella cosa E Penso farò Così Anche Per un altro Paio Di notti Lascio Completamente Fk Almeno Diciamo Rimedi Un po Sto fatto Della 1.8 Perché Dovrò Promete Rifare La parte Finale Se non Alzarla Se non Alzare Direttamente Il tutto Perché Sarebbe comodo Avere Dei danni Dei danni Da caduta Però Dovrò Alzare È un casino In generale Quindi Ecco Sì Quindi Per questo episodio Anche se L'abbiamo Fatto Molto Abbiamo Messo I presupposti Per Iniziare Ad utilizzare Veramente Questa Farm Quindi Sì Diciamo Che Per questo Episodio È tutto Io vi aspetto Nel prossimo episodio Vi saluto Ciao Turuturututti Alla Sì Alla Sì Alla Sì Grazie.